ve l'avevo detto sa la Roma vince il derby sta maglietta non me la levo per i prossimi 40 giorni quindi vediamo se ci riesco arrivà a tutti i giorni a farvi tu 10 video al giorno con sta maglietta per 40 giorni non lo so se reggo ma soprattutto non so se me reggono a casa perché già oggi dopo due giorni e me in mezzo o tre giorni sta maglietta ha assunto delle delle situazioni improponibili poi sta a cominciare pure a far caldo questa è un po' capito quel tessudino che te fa che te fa venire proprio il velludino sotto la scella bentornati e ben e berri non domandate vedete domani maglietta questa non domandate più fatemi questa sapete bentornati e berri trovati allora sti giorni che non ho portato bombe di calciomercato in tantissimi mi avete chiesto un nuovo episodio ed è per questo che vi sto accontentando ma voglio rilanciare non vi chiedo un numero minimo che mi piace però capisco io perché conosco la media giornaliera la media che mi piace che arriva su questo contenuto in questo periodo se andiamo oltre quella media domani vi porto un nuovo episodio insieme al buon Fabio preparatevi perché ne ho tantissime da dirvi quindi tutte quelle che vedo su questo foglio fronte e retro ovviamente le andrò a dividere poi domani ne usciranno altre quindi a voi a te a contenuti fatemelo capire semplicemente lasciando mi piace se mi seguite spesso su questo canale ma ancora non vi siete iscritti vi chiedo di farlo per voi una stupidaggine lo so ma ribadisco sempre ragazzi è la cosa che più fa la differenza per me e per Fabio per andare avanti con questo canale youtube con i contenuti che portiamo non vi costa niente anche perché se vi iscrivete la vostra squadra del cuore perde i prossimi 5 partite consecutive quindi fate voi un altro canale di calcio non me regge più la pompa e un canale extra calcio trovate tutti i canali in descrizione o compariranno qui durante il video indovina indovinello cosa c'è nel mio cappello dello scorso episodio avete indovinato in tantissimi ciao a Tosse perché mamma mia ragazzi era nuova sta maglietta allora vi ho detto che Juventus e Milan stanno cercando un profilo difensivo e avrebbero trovato in un difensore della Bundesliga il profilo che potrebbe fare al caso loro non mi ricordo se vi ho detto difensore centrale del Wolfsburg non ve l'ho detto perché se no sarebbe stato troppo facile lo avete indovinato lo stesso mi riferivo alla Croix quindi si litigano un profilo di questo tipo a me non dispiacerebbe un La Croix in serie A secondo me può fare veramente tanto tanto bene ora arriva in Italia una pippa de quelle esagerated nuovo indovina indovinello ragazzi devo andare su qualcosa di particolarmente pesante è notizia di qualche giorno fa ma c'è stato un rilancio della notizia proprio nelle ultime ore e sembra che insomma sia una pista percorribile un calciatore che la Juventus non vorrebbe cedere in realtà perché è una certezza è uno dei difensori più forti in assoluto della serie A e già questo vi deve far pensare dovreste aver già capito scrivetemelo qua sotto nei commenti ma c'è una squadra di Premier League che non vi sto a dire che avrebbe avanzato un'offerta da 60 60 milioni di euro nella serie A odierna dove nessuno si può permettere di sono passati quegli anni rifiuto poi anche overpagarmi il valore del calciatore io non te lo cedo ad oggi per offerte di questo tipo qualsiasi club di serie A ascolta perché la Juventus ha bisogno di cedere per il calciomercato ovviamente per riaprirsi al calciomercato e investire in qualche altro modo e un top deve uscire ve l'ho detto già nelle scorse settimane negli episodi precedenti uno tra Vlaovic e Chiesa e non sta a uscire fuori il nome suo quindi potrebbero rimanere loro e potrebbe essere lui l'indiziato numero uno è un'offerta pesante arrivata di chi sto parlando scrivetelo qua sotto nei commenti lascio cuore a chi indovinerà questo è un contenuto ve lo dico incentrato su rivoluzioni rivoluzioni che i club più importanti di serie A vogliono fare per la prossima stagione investire su giovani e di prospettiva per guardare al futuro ognuno con un nome diverso in realtà per la maggior parte su profili difensivi e adesso ci arriviamo un paio mi hanno lasciato veramente a bocca aperta uno su tutti un investimento vabbè però prima vi dico questa vi dico che che poi manca farla apposta sempre mercato in uscita della Juventus forse perché la Juventus non lo ha espressamente detto no ma è palese che abbia bisogno io ho sentito che devono rientrare con le vendite di almeno 50 milioni di euro per aprirsi al calciomercato della prossima stagione e un altro indiziato intermedio in realtà però questa sarebbe una perdita perché è più giovane e no più de prospettiva no sarebbe comunque una perdita differente che farebbe rientrare meno soldi nelle casse sto parlando di Ealing Junior e sto parlando di Tottenham soprattutto ma anche di Fulham fortemente interessate Ealing al Tottenham ragazzi direbbe sì senza alcun problema la Juventus tecnicamente io ho letto pareri discordanti da una parte ho letto la Juventus solo valuta 15 milioni ma secondo te utente che stai guardando questo contenuto la Juventus si priva dei Ealing per soli 15 milioni di euro io credo che in Premier League come minimo gliene chiedono 20-25 questo credo che sia il punto della situazione o il punto interlocativo perché voglio capire effettivamente però secondo me non è così impossibile che un club di Premier possa decidere di dare una ventina di milioni di euro per Ealing è stato avvistato Dionisi nell'ultima partita del Monza contro proprio il Napoli in casa del Monza e qualcuno già ha fatto delle teorie teorie in realtà che trovano un fondamento ragazzi su Dionisi non lo so come futuro allenatore del Monza fatto sta che è altamente probabile che il Monza perderà Palladino per la prossima stagione Palladino è stato accostato praticamente a parecchi club di serie A importanti e sembra che Palladino voglia cambiare aria da quello che ho capito io per quanto poi col Monza sta portando avanti un progetto veramente interessante da quando è arrivato lui ragazzi dalla passata stagione dopo 5 partite perse dal Monza col precedente allenatore Palladino ha fatto un macello nel senso positivo del termine però dovesse arrivare la chiamata del Napoli che è uno dei nomi che sta prendendo in considerazione seppur De Laurentiis ha altri cruci per la testa ad oggi però dovesse arrivare l'offerta giusta Palladino se ne andrebbe il Monza con qualcuno deve sostituire Dionisi come obiettivo secondo me non sarebbe neanche male se ripensiamo al passato però De Dionisi perché se ripensi a questa stagione io non prenderei mai un allenatore che è stato esonerato dal Sassuolo per aver fatto giocare malissimo la sua squadra ecco io non investire se proprio Palladino se ne deve andare non investirei e non punterei su un profilo di questo tipo poi staremo a vedere quello che succederà altre voci di calciomercato interessanti riguardano Alberto Gilardino situazione simile al Monza ne ho promossi stanno facendo veramente benissimo Gilardino sta facendo veramente benissimo italiano addio anche in questo caso ma avevo sentito anche un accostamento al Monza per Gilardino è stato accostato anche alla Fiorentina è stato accostato anche ad altri club lui ieri però ha parlato a Dazon dopo la vittoria per 1-2 contro il Verona e ha detto io mi auguro che sto rinnovo arrivi presto cioè ha aperto alla possibilità di rinnovo sembra non abbia tutta sta necessità di avere nuovi stimoli altrove sta facendo bene si sente soddisfatto del lavoro che sta facendo magari vuole continuare a crescere in quella realtà e lui vorrebbe restare lato Genoa ancora non è arrivata una risposta quindi io non lo so come si metterà fatto stack e tanti club probabilmente per la prossima stagione busseranno alla porta del Genoa così sembra una trombata busseranno alla porta del Genoa per chiedere informazioni in merito io credo che ci siano i presupposti per proseguire questa storia d'amore tra Gilardino e Genoa però ribadisco nel calciomercato mai dire mai voce del calciomercato che ci riguarda con noi questo è l'errore più grande della vita perché già l'abbiamo commesso in passato con Solbaken con noi ha fatto il fenomeno poi è arrivato una pippa di quelle clamorose io non voglio sminuire Gallo che contro di noi qualche giorno fa ha fatto il Roberto Carlos della situazione ha fatto sicuramente una buona prestazione ma in stagione ragazzi diciamoci la verità ha alternato prestazioni completamente anonime a prestazioni sicuramente importanti decenti dignitose io per quanto poi dal punto di vista dell'investimento probabilmente siamo limitati economicamente quindi dobbiamo pure accontentarci con uno Spinazzola che ragazzi c'è una tenuta fisica abbastanza alta allenante non non me strapperei i capelli né in positivo né in negativo qualora arrivasse Gallo ecco gli darei comunque la possibilità di dire fammi vedere quello che sai fa ma onestamente preferirei altro punterei su altri obiettivi ce ne sono altri che secondo me uno su tutti giovane che non arriverà mai perché ci stanno arti club e mezzo e non e zie e va bene così e anche Gallo lo abbiamo detto sulla Juventus ragazzi ce n'ho una due tre quattro cinque sei sette otto sulla Juventus ci sono otto bombe di calciomercato e so una peggio dell'altra oggi una ve la ve la dirò ovviamente in entrata poi le altre ne riparleremo nei prossimi giorni alcune lasciano veramente a bocca aperta già ve lo ve lo anticipo situazione Napoli sto Napoli altalenante ragazzi che a tratti contro Monza è sembrato essere tornato se uno non pensa a sta stagione dice mazza come gioca ho tre gol tre secondi sembrava sembrava ribadisco il Napoli della passata stagione poi la realtà ci dice tutt'altro ma De Laurentiis ha capito una cosa che c'è bisogno di un rinforzo in difesa Nathan ragazzi io non ho capito che fine ha fatto onestamente parlando non si fidano probabilmente perché sta sempre in panchina ragazzi gioca veramente col contagocce per non dire non gioca mai e il Napoli ha puntato un difensore centrale dell'Ajax giovanissimo che si sta mettendo veramente tanto in mostra che è olandese se non mi sbaglio Ato non so se lo conoscete insomma manco se si pronuncia così in realtà H-A-T-O però è un difensore veramente dici ma l'Ajax piglia 15 col Dalfe ragazzi Ato è un difensore veramente molto molto interessante la valutazione è di circa 20 milioni di euro De Laurentiis è uno dei pochi club in Italia che ha possibilità di investire con soldi pesanti senza dover per forza cedere prima e si potrebbe fare questo investimento qualcuno potrebbe dire ma allora l'investimento Nathan che cosa l'hai fatto a fare non lo so come si metterà la situazione Nathan le dico la verità non escludo possa essere ceduto guardando quello che non ha fatto finora quindi staremo staremo a vedere non è una situazione così facile dal punto di vista di Nathan il Napoli però ragazzi per la prossima stagione vuole mettere su forze fresche questa è pesantissima ragazzi miei perché la Juventus sta puntando un difensore del Bologna che potrebbe arrivare gli potrebbe fare da apripista qualora l'allenatore del Bologna decidesse di sposare la causa Juventus sempre se sempre se manderanno via Allegri perché poi dovesse prendere la Champions League si potrebbe proseguire con lui insomma una situazione molto molto nebulosa io qua mi magno le mani ragazzi già ne avevamo parlato qualche settimana fa ma la possibilità di vedere Calafiori alla Juventus non è così remota un calciatore che era di proprietà della Roma non abbiamo creduto nel ragazzo noi gli abbiamo dato il tempo noi gli abbiamo dato il modo forse noi gli abbiamo dato neanche la giusta fiducia sta diventando che poi da difensore centrale tra l'altro e non solo perché è duttilissimo può giocare su tutta la linea della difesa difesa a tre difesa a quattro secondo me è indifferente proprio è un calciatore veramente importantissimo potrebbe finire alla Juventus Juventus che ripeto tra una cessione e una cosa e un'altra poi reinvestirà ci sarà anche un aumento di capitale che permetterà alla Juventus di muoversi più agevolmente sul mercato ma Calafiori sarebbe un nome veramente pesantissimo secondo me lo vedo come un calciatore importantissimo per il futuro dell'Italia dei bianconeri e in generale di dove potrebbe andare nel futuro ma anche qualora restasse al Bologna questa sul Milano è una chicca che io qui vi dico poi non so quanti se la ricorderanno però tanti quando io parlai di Brian Diaz all'epoca quando ancora Brian Diaz non era nessuno poi tanti me l'hanno ricacciato su TikTok sono andati a recuperare quella clip l'hanno ricondivisa e ha fatto tantissime visualizzazioni e tantissimi mi piace quello che vi ho detto per Brian Diaz e c'è sempre de mezzo il Milan guarda caso io lo dico per questo ragazzo classe 2010 dice 2010 ha 14 anni classe 2010 difensore centrale sto ragazzo si chiama Troiano e ragazzi diventerà a breve verrà girato al Pescara se non ricordo male in prestito tra virgolette mi pare di aver capito per un po' di tempo ma poi firmerà con il Milan ci vorrà qualche anno almeno 3-4 anni prima di vederlo poi ipoteticamente ed eventualmente ma ricordatevi questo nome perché il Milan potrebbe aver fatto l'investimento della vita ricordatevi quello che vi sto dicendo nessuno ne parla più per i prossimi 187 anni ricordatevi quello che vi sto dicendo in questo momento chi lo sa quanti se lo ricorderanno detto questo dobbiamo parlare anche di Inter e poi chiudiamo il contenuto perché il rischio di andare veramente troppo oltre è arrivata una bomba di calciomercato così quasi dal nulla mi verrebbe da dire perché poi fino a a ieri l'altro nessuno aveva parlato di questa possibilità ma quando c'è di mezzo un parametro zero Marotta è sempre ben attento a sondare il terreno e a cercare di fiutare l'affare anche perché questo è stato un calciatore che l'Inter in passato è stato abbastanza recente ma ha cercato più e più volte un calciatore che si dovrebbe no si dovrebbe si deve rilanciare perché se lo United te lo manda in scadenza significa che non punta poi gioca col contagoccia lo United non punta minimamente su sto calciatore ma non è un ultra trentenne è un ventottenne se non mi ricordo male è arrivato a 28 almeno 28 anni fatti a dicembre ovviamente ragazzi c'è l'opzione di rinnovo peraltro anno ma lo United ha già detto no ragazzi l'Inter sta fiutando l'affare l'Inter sta cercando un attaccante per sostituire probabilmente Sanchez destinato no probabilmente sicuramente destinato a partire non ha convinto minimamente chi non risica non rosica sapete come funziona il gioco delle parti no? quante volte il Milan ha puntato sul Tomori della situazione sul Pulisic della situazione che non venivano cioè in Premier League erano degli scarti dei pacchi clamorosi mi verrebbe da dire no? poi arrivati in un'altra realtà hanno trovato la loro dimensione e sono diventati dei top indiscussi questo è il ragionamento che potrebbe fare Marotta sto parlando di Anthony Jordan Martial calciatore che io ho sempre stimato tantissimo al top della forma secondo me è veramente incredibile è un giocatore che può fare veramente ancora che può dare veramente ancora tanto al calcio secondo me c'ha bisogno di fiducia e c'ha bisogno di una piazza che gli possa dare la possibilità di esprimersi senza troppi pesi non sarebbe titolare all'Inter ovviamente però inserito nel contesto piano piano chi lo sa quello che potrebbe fare quindi Martial Marotta fruta l'affare in ottica Inter per la prossima stagione staremo a vedere se succederà io nel frattempo vi ringrazio per la visione di questo contenuto supportatemi al massimo e presto arriverà un nuovo video ciao a tutti